Questo brano è ancora oggi incredibilmente attuale, vero Riccardo? Ebbè sì, purtroppo sì. Senti, parlando di attualità e di musica popolare, ho ascoltato Madre Perla, il tuo ultimo meraviglioso lavoro, e mi ha tanto colpito la contaminazione, l'apertura verso mondi apparentemente distanti alla musica popolare. Quanto questo genere musicale deve preoccuparsi di rispettare la filologia e quanto di proiettarsi verso il futuro? Io credo che esistano due figure importanti che hanno a che fare con la musica popolare. La prima è quella dell'elettromusicologo, credo lo studioso. La prima è quella dell'elettromusicologo, credo lo studioso. Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.